L'8 marzo il GIP Monte Sarchio ha convalidato i provvedimenti di fermo per violenza sessuale di gruppo nei confronti dei tre giovani con l'accusa di aver violentato martedì scorso una giovane di 24 anni nell'ascensore della stazione di San Giorgio a Cremano della Circonvesuviana. Interrogati dal magistrato hanno sostenuto che si sia trattato di rapporti sessuali consenzienti e non estorti con la violenza, ma il GIP ha emesso l'ordinanza di costruire da cautelare in carcere nei confronti dei tre di 18 e due di 19 anni. Le indagini della squadra mobile della questura napoletana che hanno portato all'arresto dei tre hanno accertato che i ragazzi hanno convinto la giovane a seguirla con la scusa di una sigaretta. La 24enne li aveva già conosciuti precedentemente mentre era in compagnia di un'amica. I tre si erano avvicinati e avevano tentato un approccio, uno di loro a quanto si è preso si sarebbe denudato. I tre hanno mirato la ragazza nei giorni successivi, l'hanno incrociata e come per chiederle scusa di quanto avvenuto come se si fosse trattato di un gioco di ragazzi, l'hanno convinta a seguirli. La ragazza, già fragile per motivi personali, ha creduto alle parole dei tre che invece una volta chiuse le porte dell'ascensore l'hanno violentata. I giovani sono stati identificati e arrestati grazie alle telecamere di videosorveglianza e poi è partita la denuncia della stessa vittima. Durante l'interrogatorio il sostituto procuratore Cristina Curatoli che coordina le indagini con il procuratore aggiunto Raffaello Falcone ha depositato documenti a sostegno degli elementi di prova raccolti. Si aggiungeranno gli accertamenti tecnici sui cellulari dei tre ragazzi sui quali potrebbero essere rinvenuti elementi utili a far luce sulla violenza e gli esami di comparazione del DNA.